Ed ecco per voi un po' di trick da terra E vi fa sembrare tutto semplicissimo Alberto, in realtà è frutto di anni e anni e anni di allenamento Ci facciamo 360, lo facciamo? Ci scadiamo sempre di più? Attenzione! Via! E' un 360, da questa proponiamo Adesso cominciamo a aumentare le difficoltà con dei trick solo sulla ruota davanti Attenzione! Un applauso! Signori! Solo sulla ruota davanti! Mi stai scaldando Non è mai abbastanza E allora di nuovo su! Di nuovo! Su una ruota! Attenzione! E va! Un applauso! Uno! Due! Tre! Quattro! Cinque! Tre! Trec! Trec! Quindici! Quindici! 20 3, 2, 1, via Go, 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 go Incredibile Carichiamovi un applauso un po' La Suvant è ok, ci siete, ci siamo tutti È già su una ruota Attenzione È arrivato, se è bene Ok, perfetto Sforzo dopo arrivare anche da voi la Suvant, secondo piano Facciamo scivolare un po' Nella struttura, così, avanti Sì sulle perale, sempre più su Attenzione, su il carrello Fate suspire le mani I think it's important È super helpful e quindi c'è bisogno di concentrazione e carica quindi pronti tutti insieme se il finito non è abbastanza, è incredibile attenzione 105 centimetri con una ruota sola, direttamente poi ti voglio fermo su quella metà attenzione, equilibrio e tecnologi ok, va Alberto attenzione e vola incredibile puoi farne, sei sicuro? e di quelli che vi sto facendo vedere ora Alberto, da poco è da poco entrato nel Guinness dei primati novità 2014 facendo 240 palleggi consecutivi su una ruota recorda il Guinness dei primati signore e signori un applauso ad Alberto una ruota sola e su e su ancora il più e arriva ok ok gambe parte ok ci siamo ancora ci tieni molto? ah ok no allora va bene continua e dai per salire fino a sopra la padana lui che è stato 14 volte i campioni italiane assoluto vincitore della campione del mondo vincitore della campione del mondo vincitore della coppa di campioni della coppa Italia dettore di tantissimi record e esci Alberto grazie a tutti vincitore della coppa Italia di tantissima di tantissime grazie a tutti e